Noi abbiamo un primo provvedimento del luglio del 2017 con una legge che ci stanziava 250 milioni di euro. Di questi 250 milioni, 58 sono stati utilizzati a gennaio di quest'anno per completare i lavori di antiscalinamento che non erano finanziati. E premetto, questi sono gli unici soldi che ad oggi lo Stato ha messo per l'adeguamento sismico. Non c'è nessun altro capitale, gli altri capitali sono capitali nostri che sono stati spostati da una parte all'altra. Erano le famose rate ANAS del 2015 e 2016 che dovevamo pagare, il TAR, perché noi tutti i provvedimenti che abbiamo ottenuti abbiamo ottenuto attraverso decreti del TAR, perché al Ministero nessuno ci ha mai dato niente. Il TAR ha detto al Ministero che fai utilizzare al concessionario i 112 milioni delle rate ANAS che dovrà restituire nel 2028-2029 comunque all'ANAS. Quindi sono soldi nostri che abbiamo utilizzato. E' uscita poi successivamente questa legge, abbiamo chiesto di finanziarci la parte non finanziata perché 112 milioni era una parte, l'antiscalinamento voleva 170 milioni. I 58 milioni sono stati presi e anticipati dai 250 milioni attraverso una sentenza del TAR. Il TAR ha detto al Ministero dai 58 milioni a concessionario perché possa finire i lavori. E siamo arrivati ai giorni nostri, i famosi 192 milioni che il Ministro ha detto, e lo dobbiamo ringraziare di questo perché nessun altro l'ha fatto prima di lui, che ci sono 50 milioni disponibili nel 2018 e 142 milioni disponibili nel 2019. Questo recita il decreto legislativo di Genova del 28 settembre 2018. Il suo direttore generale dice invece che questi soldi non sono ancora disponibili. E quindi lui si rifiuta di firmare i decreti di approvazione dei progetti che noi abbiamo presentato già da molto tempo e che il provveditorato di Roma ha già approvato, si rifiuta di firmare questi decreti fino a che non c'è certezza che ci siano questi soldi disponibili. Quindi da una parte il Ministro dice che i soldi sono disponibili, ma l'ha dichiarato in varie occasioni, ma anche l'altro ieri, e il suo direttore generale dice no, io non c'ho certezza di questo e fino a che non c'ho certezza non faccia niente. Questo ci impedisce di andare a lavorare, cosa che noi vorremmo fare. Allora noi intanto abbiamo attivato dei cantieri sui quali per fortuna dei decreti ce li avevamo, in tempi non sospetti ce li avevano rilasciati. Tutti gli altri sono fermi, però noi stiamo già facendo tutte le azioni propedeutiche per poter lavorare anche sugli altri viadotti che sono previsti nei 192 milioni. Questo perché? Perché io spero, io ho fatto una diffida l'altro ieri al direttore generale, perché mi firmi i decreti di approvazione di questi progetti. Se lui mi firmasse i decreti dei progetti io sono in grado di andare alle nostre banche finanziatrici, siccome c'ho un'altra rata che giace in un conto specifico e non può essere utilizzata se non con il permesso del Ministero, le banche sono disponibili nel momento in cui ci saranno i decreti di approvazione dei progetti a farmi utilizzare questi fondi intanto per cominciare. Questi 50 sono 56 milioni, potrebbero sostituire i 50 che prevede il decreto, fino a che il decreto evidentemente ha un suo iter procedurale per essere approvato.